Sosteniamo il progetto Casa Marta, siamo qua. Casa Marta, allora bisogna risalire ad alcuni anni indietro a una coppia di genitori a cui morì una bambina che chiaramente aveva questo nome. Questi genitori dopo questa esperienza terribile chiaramente hanno cercato di fare qualcosa per aiutare i bambini. Questo è un progetto che è nato da poco e praticamente questa bella casa che qui vediamo tutta sistemata attualmente è una casa che è stata regalata all'ospedale Meyer dalla Caritas. È una casa che sarà tutta ristrutturata per realizzare un obiettivo che ci fa stringere il cuore a sentir dire hospice pediatrico. Cioè fondamentalmente è per ospitare i genitori dei bambini che sono al Meyer, vengono da lontano. Vengono da lontano, poi hanno fatto delle stanze per giocare, c'è un bellissimo parco. Dov'è situata questa struttura? A Scanto al Meyer, a Firenze, vicino al Meyer. Ora la cosa è chiaro, l'offerta che può dare uno che viene a fare la spesa è piccola perché il progetto è un progetto mastodontico che costa un sacco di soldi. Ma tutto fa, come disse quello che... Sì, non ti può dire. Non ti brava. Però voglio dire, io abbiamo fermato delle persone che conosciamo e sono state anche generose, pur capendo che non è con questi soldini che si risolve il problema. Ma a volte anche il gesto, la sensibilità, no? Sì, anche di parlarne. Funziona, esatto. E quindi noi siamo qui sperando nella disponibilità delle persone. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.